Ciao sono Piero De Mola, consulente immobiliare Your House Property Solution. Ti dico subito che vendere la propria casa da soli è fattibile, non c'è nessuna legge che lo vieti. Vendela al meglio invece è altra cosa, è una competenza che metto a disposizione di quei clienti che vogliono seguirmi per arrivare al successo dell'operazione, che spesso risulta complicata e articolata. Se mi stai guardando vuol dire che probabilmente fai un altro lavoro, giusto? Ti dico subito, per vendere casa tua io metto il 100% della mia giornata lavorativa. Tu non puoi, fai altro, quindi preparati a rinunciare a tutto il tempo libero che hai e a dedicarlo a questa attività se farai da solo. Probabilmente se io provassi a fare il tuo lavoro non sarei altrettanto esperto, sei d'accordo? Ma c'è una diffusa credenza che per vendere il bene più prezioso che possiedi basti poco e hai ragione, basta basare il prezzo fino a quando qualcuno non lo compra. Ma non credo che ti piaccia come opzione. Allora ecco cosa posso fare per te. Prima ci facciamo una bella chiacchierata, ci presentiamo e iniziamo a conoscerci. Tu con le tue esigenze di proprietario e io con la mia modalità di lavoro di agente immobiliare abilitato. In poche parole dobbiamo piacerci e entrambi. Ti spiego come lavoro e dobbiamo iniziare a fidarci l'uno dell'altro. Poi vengo a vedere il tuo immobile, quindi procuro, verifico e studio i documenti necessari per la compravendita. Quindi faccio un'analisi di mercato molto precisa per dimostrarti quanto vale la tua casa oggi. Ora che abbiamo un prezzo reale, come fare per venderla? È al meglio. Ti andrò a delineare la strategia di marketing personalizzata che userò, dando la giusta visibilità sui principali portali immobiliari, sul mio sito internet aziendale, con una scheda dedicata e sui social con campagne mirate. Se necessario, per valorizzare la tua abitazione, ti consiglierò interventi di home staging che miglioreranno ancor di più le chance di vendita della casa. Poi farò delle foto professionali della tua proprietà e un video emozionale per casa tua. Qualcosa che emozionerà le persone che la vedranno. Così vorranno visitare la tua e non le altre decine di case simili che sono in vendita proprio in questo momento. Non meno importante, identificherò e selezionerò le persone potenzialmente interessate alla tua casa per comprendere con loro se la tua abitazione corrisponde alle loro esigenze e capire se hanno la disponibilità per acquistarla o se hanno necessità di una consulenza creditizia dedicata e specifica. Solo allora le accompagnerò in visita. Ti terrò poi informato passo passo di cosa succede. Così potrai vivere i progressi che porteranno ad una vendita migliore di casa tua. Tutto questo mentre tu fai il tuo lavoro. Chiamami se vuoi un professionista al tuo fianco. Ciao! Ciao!